Grazie a tutti. Stai riprendendo? No, andrì. Mi faccio una. Mi faccio una e poi guardo il zambo vuole. Come l'avamo già detto, ma che due giorni? Cioè, sono quattro partite. Vabbè, una volta che la metti così, ti è forte. Vabbè, una volta che la metti così, ti è forte. Vabbè, ragazzi, visto che siete amici, se vedete delle cose che io ceffo, probabilmente... Sarà già così, vai, 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 vai. Come ci sono, magari è subito perché non l'abbiamo trattato. Come ci sono. Come ci sono. Vai ragazzi. Chi adesso sta usando base verde? E' un dischetto giallo. Eravate due bambini. C'ero anch'io. быть. T'è un forno. T'è un forno. T'è un forno. T'è un forno. Eravate due bambini. T'è un forno. T'è anche da pieno. Grazie. 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 Zamba? Sì, sì. Cambio. Stoppe. Cambio. Cambio. Bec. Grazie. 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 Cuentieri per la tripa. sempre cioè sempre bec corner di là questo? si ho fatto due aspetta vai questo va qua giusto non è buono si 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 che non è entrato non è buono non è buono Grazie. Non cadinci, porco. Palo sempre di Luca Zambelli. Non l'ho parlato. No. Hai preso? No. Dove? Proprio all'incrocio. Grazie. C'è Mec. Al buono o vabbè? Al buono. C'è Stock. Vai. Cambio. Cambio. Rol. Prea 1. Sì. 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 Un appunto. Un appunto. Un appunto. Preso? 1 a 0. Eh sì. Un appunto. Un appunto. Un appunto. Cambio. Quindi cos'è? Direi semplicemente panatura. E' così, mi sembra una cazzata, ma sì. Ci sono un sacco di cazzate sull'uscita del fuorigioco. Così semplice di riparmi. Sì, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Stop, gioco. Cambio. 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 Bravo, Ka. Molto bravo. Sì, sì. Stop. Difensiva. Sì, sì. Se il fallo lo prendo angolo, se il back prendo il back. Il back volante. Sì, poi ti ha preso. Sì, no, è quello, infatti, dico. Perché se non ti ho preso, eh, prendo con. Ok, allora sì. Ecco il volante. Sì, beh, mi sono girato qua vicino al preditore. Ti direi così. C'è la regola del quarto. C'è la regola del quarto. Sì, c'è. C'è la regola del quarto. Sì. C'è la regola del quarto. C'è la regola del quarto. Non ne tira. Non ne tira. Marco Mondo. Come fai? Come fai? C'è la regola del quarto? C'è la regola del quarto. Un momento. Vai! Bravo Gio! Sì! Aiuto! Corco mondo! Torco mondo! Voi sapete che se l'attaccante fa 1-2 e il difensore non ha la nostra difensore, se ne ha soltanto uno, no, cioè, secondo me, quello è uguale. Ok, hai fatto una schifazza. Vantaggio? Vantaggio? Dek. Cioè, stop, come on. Cambio. Cioè, stop, come on, cambio. Back. Vantaggio? Non so da dove arriva. No, no, ero lì. Giusto, giusto. Al volo? Sì, al volo. Cambio. Cambio. Quanti errori. Troppi errori. Troppi errori. Stai in piedi. Stai in piedi. Stai in piedi. Avrai già bloccato, certo. Un po' poco poco. Un po' poco poco. Un po' poco poco. Non so da dove voglio. Non so. Un po' poco. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 1-1 di squadra. Perde? Perde Saveri 1-0 e Marco ha parciato. 1-1. Siamo sopra di gol? Siamo sopra di gol e 1-1. Grazie, grazie. Sai cosa ti ha trattato in ingani? Mi faccio che la prendi. Saluto a tutti, ciao. Grazie, grazie. 1-1. Sì, è vero. Non va bene la tazzica. Tu fatti il portiere, vai e prende il Romino. Per lui. Mi faccio vedere. Vi faccio vedere. Vieni a faccio vedere. Perchè non ciò che ci sono. Siamo qua. Grazie. 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 Pronti? Tre, due, tre, nove, nove. C'è back se vuoi. È diverso. Tiè, però il back è così. Al volo. Back. Ecco. Facciamo uno spazzolo. Mettelo un attimo. Si, era complicato. È volante, eh? Mannaggia a me, mannaggia le palle. Che palle. Non c'è niente più. Fatte. Non ci erano più, per Gesù, per Gesù, Cristian. Un altro spazio. Un altro spazzolo. Un altro spazzolo. Non lo so. Cambio. Cambio. O ha toccato quello là? No, 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 ha toccato questo. Sì, sì, era fermo da un mese. Bravo, Gio. Bravo, Gio. Sì, dai! Anche parecchio. Tu potevi protestare. Ma che cazzo dici? Sì, dai! Sì, dai! Sì, dai! Ma che mondo sti portieri? Perché io ho questa mano con le scuole al pugnato. Comunque insieme. Gioco. Preso. Monta. Preso. Vince con l'angelo. Ma che volta, sbaglio anche ti. tirabile mamma mia tu l'hai tagliata è volante dai basta tocchi se li sei a tirare cambio no cambio se cambio esatto grazie Grazie. 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 Tutto è un millimetro. Scusa. Beh. Sì. Perdiamo di un gol. Io ne ho preso un altro. 3 a 1. Sì perché tu hai giocato qua devi rifare il passaggio. Credo che tu sia qua. Sì sì. Ok. 1,2. Secondo me è il corner. Io ci ho provato se vuole andare addosso. Cesare. Sì. 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 Ok. Io non l'ho visto. Era un po' più lontano. Ok. Va bene. Stavo arrivando da qua. Allora un filo più lontano. non l'ho visto. 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 Buongiorno ragazzi! Quanto manca Monta? Sì. Quanto manca? Questo qua è giusto? Cosa ci fa? Però il laterale, capito? Sì. 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 Traversa. Sì. Traversa. Sì. Grazie. Grazie.